Si è appena insediato il nuovo governo regionale di Francesco Roberti. Le preferenze dei molisani non lasciano spazio ad interpretazioni. La vittoria del centrodestra è stata schiacciante. Ma quanto lavoro c'è da fare per il nuovo governo regionale? Il Molise si trova in una fase critica dove anche la propria autonomia è in seria discussione. Una regione troppo spesso isolata e lasciata sola con i propri debiti che stanno rendendo in primis la sanità pubblica ai minimi storici. E poi infrastrutture e trasporti inesistenti non fanno altro che isolare ancora una volta la regione che non esiste. E come dimenticare lo spopolamento ormai residenti ben al di sotto dei 300 mila abitanti pochi nati e tanti partenti in cerca di fortuna altrove. E allora i ragazzi del Molise quali prospettive vedono per questa regione? È troppo ampio lo spazio tra loro e le istituzioni? La parola a loro. Diciamo che è un po' una domanda difficile a cui rispondere perché come se non ci fossero più energie per chiedere cose a qualcuno che sai che non ti ascolta veramente. Per quanto riguarda i giovani in Molise non c'è quasi un rapporto con quel tipo di politica lì. Ci sentiamo molto distanti e sinceramente non mi aspetto nulla da questo nuovo governo che si è creato adesso anzi. Non vedi un futuro? No. Io sono un artista, comunque faccio arte, ti fanno crescere con l'idea che qui non potrai mai farlo e quindi io me ne sono andata a Firenze e l'ho visto come diciamo uno spiraglio. C'è poca informazione purtroppo e diciamo che i giovani sono un po' disinteressati a volte però ci sono tante persone che non lo sono e si dovrebbero unire per, secondo me la collettività è importantissima in questi casi per essere ascoltati e per farsi valere perché ci siamo. Vorrei tanto avere il coraggio di rimanere qua e la forza di di battermi per restare qui e creare un futuro e un po' diciamo che lo sto cercando di fare però per il mio ambito non ci sono spazi che mi permettono di poter rimanere qui e fare quello che voglio fare.